Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono, passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò, che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose, Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. Signore, sia lodato Gesù Cristo. Signore, sia lodato Gesù Cristo. Se posso darvi un consiglio, andate quest'oggi a riprendere il primo libro dei Maccabei, al capitolo primo, dal quale è stata tratta la lettura che abbiamo poc'anzi ascoltato, la prima lettura. È un capitolo molto importante. Entrambi i libri di Maccabene, l'Antico Testamento, sono molto importanti. Vi consiglio di leggerli in questo tempo, tra poco ci sarà l'Avvento, in questo tempo di preparazione al Natale. Perché ci aiuta a vedere che la storia si ripete sempre. La storia ripresenta sempre gli stessi schemi. Cambiano i personaggi, ma... E in quei giorni, dice il primo libro dei Maccabei, uscì una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco. E cosa fece? Cosa fece questo re perverso? L'abbiamo sentito. Però dobbiamo capire bene ciò che ha mosso le sue azioni. Cosa sta alla base delle sue scelte? Qual è il pensiero portante queste scelte? Andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno perché da quando siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Questa frase non la dice il re. La dicono alcuni uomini scellerati, dice la scrittura, uomini di Israele, che fanno una constatazione. Dobbiamo fare alleanza con gli altri perché a stare soli è dura. A stare soli ci capitano cose che sicuramente se facessimo alleanza con gli altri non ci capiterebbero perché è chiaro. Ciò che è diverso, ciò che si distingue, attrae l'attenzione. Questo è ovvio. Ciò che non è uniformato cattura l'occhio. Questo è scontato. E cosa cattura oltre l'occhio? Cattura l'invidia, cattura la gelosia, cattura la voglia di dominio, di possesso. E quindi è scontato che si creano dei dissidi. Sì, è ovvio. Sei diverso. E loro dicono, ma non va bene questa diversità. Facciamo alleanza con loro. Ma voi capite che non si può fare alleanza con tutto e con tutti, no? Loro avevano già fatto un'alleanza. Con chi? Con Dio. Questa era la loro appartenenza. Loro erano in alleanza con Dio. Un'alleanza sancita sul monte Sinai, scritta col dito di Dio nella pietra, tra fuoco e fiamme e tempeste. Una cosa seria. Portavano l'arca dell'alleanza che conteneva le tavole della legge, sotto la tenda, cioè, insomma. Ma quell'alleanza lì crea dei problemi. Allora facciamone un'altra. Con gli uomini. Lasciamo perdere quella di Dio. Facciamola con le nazioni. E quindi vanno dal re. Vanno dal re e il re, perverso, anche lui, dice, sì, sì, mi sembra una buona idea. Introducete nel popolo le istituzioni delle nazioni. E cosa vuol dire introducete le istituzioni delle nazioni? Vuol dire prendete la loro religione, prendete il loro credo e portatelo dentro. E infatti, dictum factum, immediatamente, costruirono un ginnasio che non è un liceo classico, eh? Ma è il luogo di culto. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme secondo le usanze delle nazioni e cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla santa alleanza. Si unirono le nazioni, si vendettero per fare il male. Appena parte l'idea di unirsi, perché comincia così, no? Facciamo alleanza con le nazioni, immediatamente non avviene una decisione politica. Nasce come idea politica, ma non si traduce immediatamente come un'opera politica. Ma la prima cosa che capiscono essere fondamentale affinché quell'idea politica diventi realtà è fare una unità di culto. È molto sottile questo ragionamento, eh? Ed è molto importante. Se noi pregheremo tutti lo stesso modo, lo stesso Dio, potremmo avere anche una medesima politica. Prima ci deve essere una medesima identità spirituale. E quindi costruiscono questo ginnasio e immediatamente devono togliere non l'hanno scritto ieri il libro di Maccabea, eh? Immediatamente devono togliere tutti i segni religiosi che dicono l'appartenenza del popolo al Dio di Israele. Quindi che cosa? La circoncisione, che era il segno nella carne che diceva questa appartenenza, e poi la Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni. Poi il re prescrisse, ecco che adesso, adesso sì, che comincia a vedersi tutta l'opera, il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo. Ecco, prima deve esserci l'unità di culto, quindi l'unità politica. Adesso facciamo un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Come detto sopra, per fare un solo popolo dobbiamo abbandonare tutte le diversità. L'importanza dell'unità sembra di sentire l'anticristo di Dostoevsky. Creiamo un'unità comune mondiale, tutto un solo popolo. Perché? Perché questo darà una grande pace. Fondata su che cosa? Adesso lo vediamo. perché vedete c'è pace e pace, eh? Non è che tutta la pace va bene. Dipende su cosa è fondata. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Subito. Va benissimo così. Anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli, profanarono il sabato. Eccolo qui. Su cosa si fonda questa unità? Sulla idolatria. Che è il peccato più grave che un uomo possa fare. Rinnegate Dio, rinneghiamo l'alleanza e cominciamo l'idolatria. E la profanazione del sabato. Il terzo comandamento. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Guarda un po' come la storia si ripete. Nell'anno 155 il re innalzò sull'altare un abominio della devastazione. Sull'altare di Dio viene messo l'abominio della devastazione, cioè l'idolo. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. Interessante che sono diventati tutti religiosi in un colpo. quando c'è da essere idolatri sono di una precisione, di una devozione, di un rigore, di un amore, di un ordine, di un darsi, di un darsi da fare. È incredibile. Diventano tutti religiosi. Addirittura adesso abbiamo anche l'incenso sulle porte delle case, nelle piazze. Sembra di vedere una grande chiesa, una grande processione, tutti dietro all'idolo, tutti a sacrificare all'idolo. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. L'anticristo di cui parla la scrittura, che tutti ci immaginiamo, no? Questo uomo che arriva. In realtà è l'antinomos, che in greco vuol dire l'antilegge. L'antilegge. Eccolo qui. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e gettavano nel fuoco. La legge di Dio deve essere distrutta. E ci sono tanti modi di distruggerla, e non è necessariamente il fuoco col falò. La legge di Dio non ha più valore. I dieci comandamenti non contano più. Adesso contano gli idoli. Tutto ciò che richiama l'alleanza, tutto ciò che richiama l'appartenenza a Dio, tutto ciò che richiama appunto la legge di Dio deve essere gettata nel fuoco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, non puoi neanche più obbedire. Capite? Non solo deve essere stracciato e bruciato, ma tu non sei più libero di obbedire, perché l'idolo, a differenza di Dio, l'idolo schiavizza, l'idolo plagia, l'idolo monopolizza, l'idolo domina, l'idolo toglie ogni libertà. E se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Cioè, tu non puoi vivere. O tu ti uniformi a questa pace fondata sull'idolo, o tu obbedisci a questo idolo e rinneghi alla radice il Dio di Israele, oppure altrimenti devi morire. Perché la tua presenza è una presenza di disturbo a questa pace politica che si fonda su quel falso culto religioso. è veramente molto importante questo procedimento e questo processo. Tuttavia, molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare i cibi impuri preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza. E per questo morirono. Muoiono. Grandissima fulira sopra Israele. Ma non tutti fanno così grazie al cielo. Non tutti accettano questa pace. E siccome non accettano questa pace, i fautori di quella falsa pace rivelano subito che cosa hanno nel cuore, la morte, l'odio e quindi li ammazzano. È lì che si vede quanto non c'è pace dentro di loro perché è fondata sull'idolo e quindi li vanno ad ammazzare. Ma di questo, di queste tre righe quello che desidero farvi vedere è questo. Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda. Non si può resistere, ci insegna la scrittura, a questa opera anticristica, antinomos, antilegge non si può resistere a questa idolatria, a questo tradimento dell'alleanza da soli. Non si può. È da sprovveduti, da stolti pensare di poterlo fare. Bisogna farsi animo a vicenda. Coloro che non vogliono uniformarsi alla falsa pace costruita sul falso Dio che è l'idolo devono unirsi, devono aiutarsi a vicenda. E allora cosa vedete? Vedete due unità. Ecco qui il quadro finale. C'è la prima unità, la prima pace fondata, il primo un solo popolo fondato sull'idolo, il falso Dio. E in contraposizione si crea una seconda unità, una seconda pace fondata sul Dio di Israele. A questo punto uno deve scegliere quale pace vuole portare nella sua vita, che in concreto vuol dire deve scegliere se credere nell'idolo o se credere nel Dio di Israele. Siero dato Gesù Cristo.